Ciao ragazzi, ben ritrovati su A Plague Tale. Nella precedente puntata abbiamo recuperato Hugo per merito di Meli e ora vedremo di scappare più lontano possibile dai nemici, ovviamente, però prima di vedere tutto questo c'è la sigla. Eravamo qua ragazzi, con Meli che teoricamente dovrebbe darci una mano a fuggire, non so da che parte andare, aspetta, ho preso qualcosa. Preso, vediamo di qua. Lì potremmo tirare qualcosa per distrarre le guardie, però non c'è nessuno. Mi hanno detto... Dividetevi. Non è una bella cosa quando dicono dividetevi. Poi a Pietro ce n'è uno. Allora... Stia lì, sa. Stia lì, non faccia scherzi. Simone. Che giro fa? Ma... Ok. Avanti alla tenda. Via. Aiuto. Aiuto. Ci vede, ci vede! Ci vede! Ci vede! Ci vede! Ci ha visto! Ci ha visto! Aiutatemi! Porca vacca, porca vacca! Sto andando a cazzo di cane! Sto andando a cazzo di cane! Sto andando a cazzo di cane! Aiutatemi! Per cortesia! Amelie! No! Che è Amelie? Amelie! Aiutaci! Amicia! Amicia! Amicia si fa del male in questo modo. Cerchiamo di trovare un'altra strada. Ok ragazzi, qua ci siamo. Il problema è che lui ora si gira. Oddio! Come to daddy. Stop! Stop you assholes! No! No! Still nothing? Are you sure she didn't leave the camp? Spread out! Split up! And search the tents! ok qua ci siamo arrivati però io non mi fido e torno indietro aiuto oh ma là ce n'è un altro allora facciamo una cosa torniamo un attimo indietro non possiamo distrarli in qualche modo dai giù sa dai giù si che possiamo so che mira ragazzi via 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 ma se io per dire l'uccido no ora però si potrebbe anche adesso ci vede cabacca è pieno di gente dai si muore malissimo oh muori oh no no ragazzi in questa puntata si muore malissimo no 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 Ho ben paura, eh? Dai, dai, dai. Tu? Ecco, ce li ammazziamo tutti. Tutti li ammazziamo, anche quello lì. Oh, cazzo. Scusate. Amicia, c'hai una mira, guarda. Muore male. C'è nessuno. Eh, ma ora dove andiamo? Amica mia, nel cuore. E che cazzarola, là ce n'è un altro. Merda, 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 non me lo fa prendere. Eh, muori male. Sì, dai, velocina, però, eh? Su. Ok. Ora pian pianello dove andiamo? Giù di qua. C'è nessuno? Posso entrare? Posso uscire? Posso andarmene? Mmh. Eh, per forza tesoro, non ci aiuta nessuno qui. Andiamo. C'è nessun altro? Mi puzza questa cosa, che non ci sia nessuno. Ecco, per esempio, qua... Urca vacca! Oh, via. E via. E via da me. Oh, vacca boia. Oh, no, mi sono sbagliata. No, mori prima tu. E muori. Via, 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 via. Forza e coraggio. Forza, succede un altro. Viulenza, ragazzi. Viulenza. Ciccia, io ho fatto del mio meglio, però ora... Cioè, che fammo, torniamo indietro, dai! Non c'è nessuno. Tanti sassi. Dov'è l'autobus? Dov'è passa? Dove proponi di andare? Là? Ma qua non c'eravamo passati prima, ragazzi. Dai, spostati però! C'è nessuno. Io propongo di prendere un cavallo. Giuro. Bello, questo cavallo. Cazzo. Si può prendere il cavallo? Cazzato. Andiamo nelle stalle a far cosa? Portate pazienza, eh. Spostati, Melì. Non possiamo prendere nulla di nulla. Manco questo. Quello lo abbiamo fatto secco. Molto bene. Oh, c'è la porta. Non ci credo. Non ci posso credere. Sì, ma non ci credo neanche che è libera la porta. Vai. Non ci credo. Non ci credo. Guarda che spavento. Ops. Porca vacca. Buonasera. Oh, vacca boia. Run. Mori. Mori malissimo. Non si apre. Cazzo. Ah, di qua. Ok. Su. Su, su, su. No, 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 no. Mio fratello non lo tocchi. Mio fratello non lo tocchi. Aiuto. Dove andiamo? Aiuto. Oh, signora, sono presa dal panico. Porca vacca. Sali se hai le palle. Vieni su. Ti ammazzo male. Sì, arrivo. Aspettami. Cazzo. Oh, muori male. Oh, cazzo. Questa è guerra, ragazzi. È guerra. Aspettami. Oh, cazzo. No, si muore, si muore, si muore, si muore, si muore. Si muore, ragazzi. Mi dispiace. Ho fatto parecchia, parecchia fatica, ma la guerra, la guerra è questa. È questa. Continueremo nella prossima puntata e cercheremo, ve lo prometto, di scappare lontanissimo da questi bastardi che vogliono il nostro fratellino Hugo. E ancora devo capire perché lo vogliono. Ce ne sono tanti altri carini dei bambini. Perché proprio nostro fratello? Risponderemo forse nelle prossime puntate. Ciao a tutti, ragazzi, da Malik's Game.